I gesti più semplici e naturali possono cambiare il mondo. Nello sport e nella vita, le grandi vittorie si conquistano giorno per giorno, gesto dopo gesto. Le Olimpiadi e le Paralimpiadi sono un'occasione unica per lasciare un segno, leggero e bellissimo. Milano Cortina 2026. Il futuro è una vittoria di tutti. Servono determinazione e lealtà per poter affrontare ogni sfida, per raggiungere i nostri obiettivi. Tutti possiamo imparare dal coraggio degli atleti olimpici e paralimpici. Insieme possiamo costruire un mondo migliore attraverso lo sport. Un mondo in cui tutti possono giocare e vincere insieme. Milano Cortina 2026. Entra nei giochi. Il futuro è un po' Il futuro è un po' L'uomo di Peregocchi Вторosista. L'uomo歌